Come ha chiesto Berlusconi, cosa succederà? Io credo che sia normale che all'interno di un grande partito come il nostro ci sia un dibattito che veda al suo interno confrontarsi posizioni anche differenti e sono anche convinta che come sempre è accaduto in questi anni saremo in grado di trovare, grazie anche ovviamente all'azione del Presidente Berlusconi una sintesi che sarà una sintesi soddisfacente che potrà quindi esprimere una posizione di Forza Italia a favore di riforme che davvero saranno utili all'interesse del Paese e non all'interesse magari di chi vorrà porsi sul petto la medaglietta di riformatore e di innovatore.